Siamo all'Ipari, alle isole Olie, davanti alla Sicilia, la grande isola italiana che si trova al centro del Mediterraneo. Siamo venuti qua per girare una nuova puntata di navigare ai video portolani di SVN su Lovelanet. Vi faremo vedere le rade, vi parleremo di eventi, dei pericoli e delle curiosità che si possono trovare intorno all'isola venendo in barca da queste parti. Poi vi faremo vedere l'interno, il paese, il castello, il chiostro, le cose belle da vedere qui e infine, in ultimo, vi parleremo di cosa si mangia e cosa si beve qui all'Ipari e vi assicuro che si mangia e si beve veramente molto bene. Seguitemi! Siamo alle isole Olie, siamo venuti a vedere l'isola di Lipari, a cui abbiamo dedicato appunto questo video. Lipari è l'isola più grande dell'arcipelago, fa comune per 6 delle isole tranne l'isola di Salina. Ospita 9.000 abitanti che d'estate diventano 60.000, quindi è un'isola veramente turistica. Per parlare di Lipari ho qui con me Simona Pasqua. Ciao Simona, come già molti di voi sanno, è una skipper della squadra skipper di NSS Charter, la più grande società di charter in Italia e quella che ci sta supportando appunto per realizzare questo video. Ci supporta fornendoci le imbarcazioni che ci servono e soprattutto gli equipaggi che ci servono per condurre le imbarcazioni e per pensare a far vivere tutta la truppa durante i giorni delle riprese. Ora cominciamo a parlare. Ci troviamo a Lipari, questa grande baia sta davanti al paese ed è una baia che si divide in due. Da una parte lì abbiamo Marina Lunga, poi abbiamo questa rocca che è il castello di Lipari e sulla sua sinistra guardando terra Marina Corta che invece è il porto originale dell'isola. Simona vogliamo cominciare a parlare di Marina Lunga? Sì. Andiamo. Allora qui abbiamo quattro pontili galleggianti, i pontili possono ospitare circa 50 imbarcazioni per dimensioni tra i 6 e i 60 metri. Dopo i pontili abbiamo la pompa carburante, dopo la pompa carburante abbiamo un'area che sarebbe perfetta per ancorare perché il fondale è di 5 metri ma attenzione non fatelo perché lì attracca la bettolina. Perché a Lipari l'acqua non c'è, arriva con le navi. Questo vuol dire che quando andate ai moli e la utilizzate fatelo con parsimonia. Esatto. Dopo quest'area abbiamo il porto di Pignataro, abbiamo una zona chiamata Pignataro che si divide nel porto in sé, porto di Pignataro e vari pontili galleggianti tra cui quello che ci sta ospitando che è quello di Eolmare. Abbiamo lì circa, possono andare 120 imbarcazioni da Eolmare e 70 imbarcazioni al porto Pignataro. Di che dimensioni? Vanno per Eolmare fino a 30 metri dai 6 e 30 metri, per Pignataro fino a 45 metri. Benissimo, adesso parliamo di acqua, elettricità e conferimento rifiuti. Ok, allora acqua, elettricità e rifiuti e tutte e tre le cose potete farle naturalmente sia ai pontili che è al porto. Vi consiglio di farlo lì perché per i rifiuti c'è un problema particolare nell'isola. Non solo dovete assolutamente smistarli, ma soprattutto non ci sono più i cassonetti nell'isola. Dovete andare fuori il paese, quindi se siete all'ancora dovete portarli finché non uscite dal paese. E questo è un bel problema. Senti, ma se io non voglio andare ai Moli e voglio dare fonda, dove posso dare fonda? Allora, meglio non davanti la rada di Marina Lunga perché c'è troppo traffico tra Diporto e Traghetti e Daliscafi, ma questa zona qui davanti o il castello subito dietro di noi o Marina Corta. Avremo al castello un fondale importante perché va dai 17 ai 30 metri, infatti solitamente lì è più facile vedere super yacht e il fondale è completamente roccioso, quindi attenzione. Dopodiché a Marina Corta possiamo andare da un antimurale all'altro e tutta quella zona ancoriamo tra i 15 e i 25 metri. Il fondale è misto, sabbia, roccia, ma fate attenzione che è a terrazze, quindi non fate più file. Cosa significa a terrazze? Il fondale delle isole e olio è fatto così, praticamente a gradoni e questo comporta un pericolo. Se voi mettete l'ancora vicino al bordo del gradone, l'ancora ara un pochettino, cade nel burrone e voi vi trovate senza ancora alla deriva. Per cui quando dovete ancorare dovete sempre fare molta attenzione a mettere l'ancora ben dentro la terrazza. Ora, all'Ipari il problema è presente, ma non è così forte. In altre isole dell'arcipelago invece fate molta attenzione perché lì è molto molto evidente. Esatto. Sempre su Marina Corta possiamo dire di fare attenzione a non ancorare davanti l'ingresso dei moli, naturalmente, perché in uno entrano i pescatori che sono un poco più gentili, nell'altro invece entrano le barche al traffico e loro non hanno assolutamente pietà, quindi se siete lì davanti è capitaneria assicurata. Le barche al traffico sono le barche che portano i turisti per la giornata, li sbarcono qui per la giornata e poi se le riportano via la sera, oppure li imbarcano e le riportano la sera, chiaramente. Dopo Marina Corta abbiamo un'altra area dove si può ancorare che è chiamata Portinente, però lì c'è l'unico Campoboe, quindi in realtà più che ancorare perché lì il fondale siamo già a 20 metri, magari andrei al Campoboe. E adesso invece vediamo i venti, quali venti devo temere io qui? In quest'area tutti quelli di primo e secondo quadrante, quindi da grecale fino a mezzogiorno, in questo caso non andate ai pontili, ma se volete rimanere da questa parte dell'isola per scendere a terra andate assolutamente a Porto Pignataro, che è l'unico sicuro che non soffre nessuno di questi. Ma Lipari è un'isola abbastanza grande da offrire riparo anche dall'altra parte, infatti dopo che avremo visitato alcune cose a terra vi porteremo a vedere le rade che sono dall'altra parte dell'isola dove vi potete andare a riparare nel caso invece qui non sia più sicuro. Ma adesso io dico potremmo scendere a terra e andare a visitare Lipari. Sì, andiamo allora. Marina Corta, uno dei gioielli di Lipari, questo è uno dei posti più ricchi del paese, infatti se voi vedete le costruzioni qui sono molto rifinite e hanno diversi freggi, perché qui vivevano nobili e notabili, al contrario ad esempio di quanto accadeva a Marina Lunga dove invece vivevano i pescatori. Un posto, abbiamo detto una chicca, un piccolo gioiello che nasconde diverse sorpresi e degli angoli particolarmente belli, di cui adesso ci parlerà Simona. La prima cosa da vedere oltre la piazza naturalmente in sé di Marina Corta sono le varie chiese che sono qui attorno. Lì abbiamo la chiesa di San Giuseppe, subito dietro la chiesa di San Giuseppe c'è la chiesa di San Bartolomeo, chiusa il più delle volte ma è bellissima la piazzetta in sé, antistante la chiesa andatela a vedere se potete, è questa qui accanto a noi, è la chiesa della Madonna della Neve che adesso è stata adibita a presepe del mare e la particolarità è che il presepe anziché avere come personaggi i pastori classici come noi solitamente abbiamo sempre visto, abbiamo i pescatori del luogo, i propri pescatori, i proprietari di queste barche attorno a noi. Sì, è bellissimo perché i volti di questi personaggi che voi vedete nel presepe sono gli stessi volti di alcune persone che voi poi ritrovate lì sulla piazza, per cui è una cosa da andare a vedere. Sì, dopodiché il castello che è qui dietro di noi, molto bello. Un castello fortificato da Carlo V, voi fate una grande salita, passate attraverso alcune porte medievali e arrivate in un luogo dove non c'è un castello, perché al contrario di tutti i castelli italiani qui il castello non c'è, c'è una grande aria dove ci sono delle chiese, dove ci sono diverse cose ma soprattutto dove voi iniziate un viaggio nella storia, un viaggio che vi porterà da 5.000 anni prima di Cristo fino a 1.700 anni dopo Cristo. Troverete i basamenti di capanne di 2.300 anni fa per arrivare sino alla cattedrale di San Bartolomeo che ha visto la prima pietra nel V secolo fino ad arrivare a una grande restaurazione nel XVI secolo ad opera appunto di voluta da Carlo V per poi arrivare ben oltre perché c'è stato un ultimo restauro non più tardi di un secolo e mezzo fa. A proposito del castello le scoperte non finiscono mai perché solamente alla fine degli anni 70 è stato scoperto il chiostro. Certamente, infatti nel 1978 un rappresentante di una famiglia della zona scopre un capitello che usciva fuori dalla terra, si insospettisce, vuole andare a fondo, comincia a scavare. In poco tempo tirano fuori questo chiostro che come vedete è stupendo, è un chiostro che appartiene al monastero di Benedettini che volle Ruggero II, conte d'Altavilla, primo re di Sicilia nel 1131. Lo volle perché? Perché Lipari al tempo quando lui arrivò sull'isola lo trovò praticamente deserta perché nell'838 c'era stata un'incursione di pirati e aveva devastato un po' tutto, aveva ucciso un po' tutti, aveva deportato un sacco di persone per cui sull'isola erano rimaste pochissime persone. Lui per ripopolarla pensò appunto di creare un monastero che attirava sempre molti fedeli, molti dei quali arrivavano dalla Sicilia e si trasferivano a vivere a Lipari. Oltre alla parte storica direi che Lipari vive tantissimo della sua parte paesaggistica, quindi non possiamo non parlare dei Belvedere come quello che abbiamo visto ieri. Infatti ieri mattina Simona ci ha portato al Belvedere dell'osservatorio vulcanologico, abbiamo preso il classico taxi di Lipari che sono pulmini da 9 posti, per cui un posto all'autista e 8 posti li potete utilizzare voi, che con 40 euro ci ha portato su e ci ha riportato giù e la gita veramente vale la pena. Sono 20 minuti di macchina che vi faranno sorprendere. Quando voi arrivate a questo Belvedere guardate quanto può essere bello. Da qui possiamo vedere l'isola di Vulcano. Sì, vediamo Vulcano, vediamo l'isola di Vulcanello, si vede benissimo l'ismo di terra che congiunge naturalmente le due isole e che crea due baie naturali, poste un allevante e un apponente da cui prendono il nome è naturalmente il Vulcano di Vulcano. Ecco perché l'osservatorio vulcanologico qua. Da lì si vede proprio quasi l'interno del cratere di Vulcano. Visto questo, io direi di andare a vedere il corso qui a Lipari. Andiamo, seguitemi. E siamo sul corso di Lipari. Interessante questo corso, carino. Carino, lo vedi. E poi è pieno di negozietti come mi hai detto te. Sì, trovi negozi di tutti i tipi, dai prodotti tipici, c'è un po' di artigianato locale, ma soprattutto se hai voglia di fare un regalo per tutte le tasche, qui puoi farlo. Perché trovi di tutto. Sì, sì, sì. Senti, e l'altra cosa molto carina che mi è piaciuta molto, sono i piccoletti. Li hai visti, che amore, deliziosi. Sì, vale la pena entrare, perdersi, fare tante foto. Specialmente tra qui e Marina Corta, tutte le stradine laterali. Andatele a vedere perché sono molto interessanti. Senti, ma pensavo di fare una fermata particolare. Che cosa? Dato che sei un golosone, ti posso portare in un posto, andiamo. Ma certo, andiamo, ti seguo. Buongiorno signora. Buongiorno. Ti ho portato da Subba, che è la più antica pasticceria dell'isola. Figurati che è del 1930. E cosa mi fai a provare? Ti faccio assaggiare, una pasta, due paste paradiso, per favore. E cosa sono? È un dolce tipico di qua, è un dolce con pasta di mandorle. Grazie mille signora. E filetti di cedro all'interno. Ah. È buono. Buonissimo, molto buono, veramente molto, molto buono. Il nonno addirittura ha vinto una competizione, Francesco Subba, con questo dolce, nel 74 all'Expo di Milano. Buono. Ma sai, c'è un'altra cosa che a me mi fa morire proprio, perché io sono goloso, no? Fare colazione la mattina con la granita di caffè, con la panna, con la brioche. Il cavallo di battaglia. Il cavallo di battaglia, veramente. Buono. Veramente molto, molto buono. Dove andiamo ora? Adesso molliamo gli ormeggi e andiamo alla rada delle pomici. Ah, quella che sta qua dietro? Sì, esatto. Senti, una cosa vi volevo chiedere. Mi hai parlato, mi hai detto tutta una serie di cose di Marina Lunga. Ma c'è qualche cosa invece di negativo, qualche problema serio che c'è qui? Beh, in realtà uno ce n'è, perché traghetti e gli scafi che arrivano qui nell'isola, durante la giornata hanno una velocità un po' elevata. Ed essendo la baia così ampia, crea anche onda, che può essere fastidiosa se state ai pontili durante la giornata. Però la sera, dalle otto di mattina alle otto di sera, riducono la velocità e quindi a quel punto ti lasciano dormire tranquillo, perché riprendono la mattina alle sei. Perfetto, c'ho la notte da passo tranquilla. Ciao Carmen. Ciao Maurizio. Che stai cucinando? Cucino una pasta con l'ero di seppia. Ah, buono, ottimo. Senti, andiamo in una curiosità. Io ogni volta che vado su una barca di NSS, l'hostess sa sempre cucinare benissimo. Ma che vi fanno? Un corso? Sì, facciamo una selezione. Ah, una selezione? Sì, fanno comunque un sondaggio e poi scelgono l'hostess che sa cucinare, che comunque sta bene in mare. Ah, svelato il mistero allora. Ok, io adesso vado giù e poi torno su per la pasta al nero di seppia. Certo, tra poco, ciao. Brava, bravissima! Simona, allora siamo arrivati qui. Dove abbiamo ancorato? Siamo nella famosissima cave di Pomice. Certamente, le famose cave di Pomice. L'ipare è famosa per le cave di Pomice, considerate che sono cave che sono attive da centinaia di anni e sono state chiuse soltanto nel 2007. E hanno portato a questa baia una particolarità, quale? Il colore dell'acqua, quest'acqua color turchese, che si crea perché la Pomice, sgretolandosi dalla montagna, finisce a mare e si deposita sul fondo. E si è sparsa per tutta la baia, per cui il fondo è chiaro e l'acqua chiaramente diventa turchese. Ce ne dai le caratteristiche? Sì, certamente. Abbiamo una profondità che va tra i 4 e i 10 metri. La baia, come vedete, è ampissima, si può ancorare lungo tutta la lunghezza. Sabbia, quindi ottimo tenitore, ed è riparata dai venti occidentali. Quindi si può stare qui con maestrale se non è forte, fino a sud, al vento da sud è riparata, aperta a tutti gli altri. La particolarità è, se volete passare una notte in discoteca, divertirvi, andate a dare fonda lì. Lì c'è il White Beach, che è uno stabilimento dove nel pomeriggio cominciano a fare musica all'aperto e la sera si trasforma in una vera e propria discoteca. Chiaramente, invece, se volete passare una sera tranquilla, non andate lì, ma andate dall'altra parte, ben distanti, perché lì fanno musica fino alle 3 del mattino. Simona, l'altro giorno ci hai fatto fare un giro delle baie che stanno nella costa di Ponente. Vogliamo illustrarle anche ai nostri video spettatori? Certamente. Cominciamo dalle più meridionali. Sì, lasciando il paese di Liperi e facendo un giro in senso orario, la prima baia che incontriamo è la baia di Vinci. Lei è la baia proprio di fronte vulcano. Sotto l'osservatorio vulcanologico, dove siamo saliti per il Belvedere, che abbiamo visto quel Belvedere stupendo. La baia ha un fondale che va tra gli 8 e i 12 metri, fondale tutto sabbia, si trova infatti di fronte ad una spiaggia, quindi ottimo tenitore ed è riparata dai venti, dal maestrale fino al grecale. Però si trova nello stretto che separa Vulcano da Liperi e da lì passano tantissime barche, quindi tenetene conto. La prossima rada? La prossima rada sono le formiche. È una rada che abbiamo già visto nel video portolano delle olie dell'anno scorso, ma vale sempre la pena menzionarla perché è paesaggisticamente bellissima. Abbiamo un fondale che va tra i 6 e i 12 metri. Anche qui si tratta di sabbia, quindi non abbiamo problemi per quanto riguarda l'ancora ed è riparata come venti dal maestrale fino allo scirocco. Ha due pericoli però. Le rocce che cadono dalla montagna, quindi non si può scendere a terra, è vietato. E un altro roccione invece che sbuca dal mare, proprio nella parte meridionale, quando voi arrivate da sud o passate tra il roccione e l'isola molto attaccati all'isola o passate molto a largo perché dal roccione partono tutta un'altra serie di scogli che sono affioranti, può essere che non riusciate a vedere. Prossima rada. La rada successiva è Vallemuria. Anche questa è una spiaggia, quindi una rada molto facile. Abbiamo un fondale che va tra i 6 e i 12 metri, sabbia, ottimo tenitore ed è riparata dai venti dal maestrale fino allo scirocco. E ha qualche particolarità, ce le vuoi dire? Sì, esatto. Per prima cosa attenzione ai venti catabatici perché a metà della baia abbiamo delle pareti a strapiombo sul mare. Perciò il vento arriva da sopra, si precipita in acqua, ci sono delle raffiche molto forti a volte, però assolutamente non fa onda, quindi non c'è pericolo. Sì, è il secondo, è uno scoglio che si trova a un metro e mezzo di profondità da fare attenzione, però è nell'angolo della baia, quindi è nell'angolo sud-est della baia, evitando questo punto o comunque vedendo nelle carte nautiche il resto della baia è facilmente accessibile. E poi abbiamo Attila. Sì, abbiamo Attila, che è il personaggio dell'isola, il personaggio di Vipari. L'eremita. Attila è un'eremita particolare perché d'inverno, pensate, vive da solo in quel punto là, dove non ci si arriva, non c'è una strada, quindi si arriva solamente dalla barca, per cui è completamente solo. D'estate invece a tanti amici e figuratevi che è l'unica eremita che ha una stanza per gli ospiti. È una torre d'avvistamento. Detto questo, passerei alla prossima rada. Sì, la prossima rada è Punta Cugno Lungo, è una rada più piccola di tutte le altre di cui abbiamo parlato. Nell'angolo nord-ovest della baia c'è una piccola spiaggetta, quindi lì il fondale è sabbia e siamo tra i 10 e i 12 metri, però attenzione perché appena vi allontanate, non solo diventa più elevato, poi ci sono anche rocce. In questa rada siamo riparati dal maestrale come venti tutti quanti fino allo scirocco, però vi consiglio di rimanere solamente con buon tempo. La rada è piccola, ci sono delle pareti a strapiombo molto vicino a voi e soprattutto di pericoloso c'è uno scoglio al centro, nella linea di congiungimento tra le due punte, che sono Cugno Lungo e Cala Fico. Questo scoglio è un metro di profondità molto grande, non segnalato da una boa. Attenzione, ho visto delle barche purtroppo imbattervi contro di lui. Quindi assolutamente, prima di entrarci andatelo a controllare. Altra particolarità di questa baia è che qui i cellulari non prendono assolutamente e non c'è nessuna luce artificiale. Detto questo, fatta questa rapida panoramica delle rade che stanno sulla versante di Ponente, il sole sta calando. Io ti porterei a cena. E io vorrei con te. E dove mi porti? Ti porto da Filippino. Tutti mi parlano di questo Filippino. Stasera vedrai perché. Va bene, andiamo. Dai. Seguitemi anche questa volta. Bellissimo weekend, ci hai fatto passare veramente un bel weekend. Hai visto che bella Lipari? Bellissima. Tu pensa che io sono venuto qui tante volte e non sono mai andato a girarmi il paese. È vero, non sono mai andato dentro il castello, non sono mai andato a vedere i piccoletti, San Bartolomeo. È veramente un peccato. Ci sono degli scorci incredibili. E anche le rade. Io sono venuto qui e facevo Marina Lunga, le pomici e poi andavo a vedere le altre isole. Guarda, è un errore che fanno in tanti e si perdono un sacco di cose belle. È vero, perché quando si viene alle ollie si vuole fare per forza tutte quante le isole e si perde invece la bellezza delle isole. Vero. E poi questa cena. Questa cena è incredibile. È veramente incredibile. È il vino poi, eccezionale. Penso, lo chef mi raccontava che questo è un vino fatto a Salina, all'isola che sta qui vicino, con questa uva qua, Corinto Nero. e dice che è un vino che va bene sia con la carne che col pesce. Specialmente i francesi lo amano con il pesce. E in effetti è veramente molto buono. E in effetti era buono. Sì, sì. È proprio buono. Buonasera. Buonasera. Com'è andato? Benissimo. Ma lei è Lucio Bernardi? Sì, sono io. Lo sa che si parla molto di lei? Sì, sì, abbastanza. E io capisco pure perché questa cosa che ci ha fatto mangiare è buonissima proprio. Sì, è un piatto molto semplice però che racchiude tutti i sapori e gli ingredienti. dentro delle isole. Mi ha detto si chiamano le treccine? Orchidee delle olie perché il cappero quando sboccia e fa il fiore assomiglia moltissimo a un'orchidea. E come la fate? È una salsa cruda tipo un pesto che si fa con mandorle, pinoli, pomodorini di pachino oppure anche del pomodoro fresco. L'importante è che sia maturo. Olio extravergine d'oliva. Si può mettere sia del peperoncino a chi piace il piccanto, se no un pizzico di pepe bianco, qualche spicchio d'aglio per dare un po' di profumo, basilico e menta soprattutto che sono gli ingredienti principali assieme alle mandorle che danno quel tocco in più al piatto. E si sentono infatti, è molto buono. E poi lo mantecate? Lo mantechiamo a momento, riscaldiamo appena la salsa e mantechiamo la pasta assieme alla salsa. Lo completiamo con un cucchiaino di caciocavallo siciliano stagionato oppure anche con del pecorino buono. Buono, veramente buono. Complimenti, grazie mille. Grazie a voi. Buonasera. Grazie. Arrivederci. A questo punto io penso... Io lo so cosa stai per dire, però ti rubo la scena stavolta. Io te la cedo, dai. Se vi è piaciuto il video, spero che vi abbia interessato, fatecelo sapere. Il direttore ci tiene, lo sapete, no? È vero. Quindi dateci il vostro like, lasciate un commento e... E vi do appuntamento al prossimo video con SWN solo per la net. E vi do appuntamento al prossimo video.